Quando si pensa agli ambasciatori della musica italiana nel mondo, nella mente di tutti risuonano le melodie di grandi artisti che hanno fatto la storia della canzone. Pavarotti, Bocelli, Modugno, solo per citarne alcuni. Il compito di diffondere nel globo la tradizione del bel canto italiano, però è spesso portata avanti da artisti di elevato talento, che non godono purtroppo nel palcoscenico musicale italiano di tanto successo. È il caso dell'artista di origini favaresi Carmelo Di Napoli. Quest'ultimo, da molti anni, risiede a Parigi dove, grazie alla sua forza di volontà e alla sua perseveranza, ha potuto sviluppare il suo talento. L'autore, compositore ed interprete del romanticismo italiano ha al suo attivo la realizzazione di ben 16 album ed ha calcato i palcoscenici dei maggiori teatri del mondo, da quello nazionale García Lorca dell'Havana, Cuba, al Teatro Municipale Trinon di Rio de Janeiro. Dei successi musicali di Carmelo Di Napoli in Francia hanno scritto anche le più importanti testate giornalistiche, quali le Figaro e le François. Tra i brani di maggiore successo del cantautore favarese ricordiamo Dimmi, che tra l'altro dà il nome al suo ultimo album, che raccoglie i maggiori successi. E Letizia, anche questa presente nelle tracce musicali del CD, che il cantautore favarese ha dedicato alla propria mamma. La sua voce calda e le sue canzoni romantiche sanno dire ti amo a tutti gli innamorati del mondo. Nel 97 ha ricevuto il trofè internazionale della canzone. In 25 anni di carriera, Carmelo Di Napoli ha saputo conquistare il cuore del pubblico e soprattutto delle donne di tutto il mondo. L'incontro avuto con Gigliona Cinquetti all'Olimpia di Parigi ha risvegliato i suoi sogni da bambino ed ha sviluppato la sua grande passione, la musica. Quando si pensa a Carmelo Di Napoli, appare immediata la constatazione con gli aggettivi bravura, simpatia e generosità. Vi abbiamo parlato spesso in questi anni di giovani talenti musicali emergenti, testimoniando attraverso le nostre telecamere come la loro voce sia apprezzata nell'Interland agrigentino e non solo. Speriamo che al più presto anche a Fevara si possa assistere ad un concerto dell'artista nostrano Carmelo Di Napoli. Grazie a tutti.